Bene bene bene, ciao da Francesco Nano di ScuolaSuono.it Benvenuto in questa nuova videoguida, si tratta della videoguida relativa al plugin EZDrummer realizzata da Gabriele Cento, che saluto e ringrazio per il lavoro svolto. Questo è un plugin, una drum machine virtuale, si potrebbe definire, che veramente supera qualsiasi immaginazione per le sonorità che si possono ottenere. Penso che sia uno dei plugin più detestati dai batteristi, da tutti i batteristi professionisti del mondo e anche dagli studi di registrazione grossi, perché veramente con questo plugin puoi ottenere delle sonorità di batteria veramente high budget. Quindi consigliatissima la videoguida, è molto interessante e soprattutto ti dà la conoscenza nuova di uno strumento che non tutti conoscono, ma che veramente può essere davvero utile. Assolutamente consigliata la visione del video di approfondimento, perché in quel video sentirai proprio all'opera questo plugin, sentirai le sonorità che si possono ottenere sfruttando per bene questo plugin. Anzi, veramente la cosa interessante è che quelle sonorità che sentirai sono sonorità di default, quindi metti sul plugin e già suona in questa maniera, pazzesco. Buona visione da Francesco Nano e ci vediamo con il prossimo video, ciao! Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording, sono Gabriele Cento e vi parlo dal mio home studio di Milano, puoi visitare la mia pagina a profilo scuolasuono per ulteriori dettagli. In questa videoguida parleremo di Toontrack e Zedrammer, è sostanzialmente un virtual instrument dedicato al mondo della batteria. Viene in parte considerato una versione light del famosissimo Superior Drummer, sempre di casa Toontrack. In realtà però può essere tranquillamente considerato uno strumento a sé perché ha tutte le potenzialità e l'efficienza che caratterizzano uno strumento virtuale di qualità. Questo virtual instrument è una bellissima fusione di tecnologia. Pensiamo a quale grande lavoro c'è stato dietro al plugin, quindi per acquisire, campionare e realizzare materialmente e fisicamente questo strumento. Aggiungiamo che è di fatto possibile far coabitare l'audio ed il MIDI, quindi possiamo scegliere ad esempio i singoli componenti del set o un determinato preset con una specifica tipologia di suono, intervenire anche sui livelli e in parte sulla microfonazione, poiché c'è una piccola ma potente sezione mixer dedicata anche a queste funzioni. È uno strumento che si trova ovunque e non è inusuale trovarlo nelle DAO di studi professionali. Naturalmente può essere pilotato da strumenti fisici come dei pad o anche delle master keyboard per i più estrosi o in alternativa i suoi suoni possono essere sfruttati, quindi utilizzati in seguito ad una programmazione nel sequencer. Quindi se noi abbiamo programmato la nostra traccia percussioni, possiamo attribuire l'uscita di questa traccia al Z-Drummer e lui ci stupirà con i suoi suoni. Per i più esigenti, Toontrack ha pensato ad una serie di librerie caricabili all'interno dell'interfaccia che consentono di cambiare completamente set e quindi sonorità, ideale e quindi anche per chi ha esigenza di coprire numerosi linguaggi musicali. Insieme al set vengono cambiate anche alcune funzioni del mixer che magari avremo modo di vedere nel video di dettaglio. Infatti proprio in questo prossimo video scoprirai tutte le caratteristiche che rendono EZ-Drummer unico, quindi ti ricordo che per accedere dovrai effettuare gentilmente la registrazione gratuita. Per guardare la videoguida di approfondimento su EZ-Drummer ed ascoltare le sue potenzialità devi essere registrato in scuolasuono.it quindi se non sei ancora registrato puoi registrarti nel box che trovi sotto questo video. Ciao!